In un momento di profondo smarrimento per l'elettore che il prossimo 4 marzo si troverà a decidere tra le vane promesse dei partiti tradizionali e le soluzioni sommarie proposte dai movimenti reazionari e populisti, il Partito Valore Umano rappresenta un'alternativa valida e lungimirante. Così il segretario regionale del partito, Franco Iona, che è candidato nel Partito Valore Umano come capolista al proporzionale per la Camera dei Diputati nel Collegio di Calabria Nord. Il Partito del Valore Umano, ricorda il segretario Iona, sarà presente alle prossime elezioni politiche in ogni collegio della regione, con dei candidati che vogliono rimettere al centro delle proprie proposte l'uomo e il suo vivere nella collettività. Noi chiediamo ai calabresi di darci fiducia, perché la partita si gioca anche regione per regione con questa nuova legge elettorale. La Calabria è uno dei valori centrali di questo partito perché sentiamo il dovere di amarla e non solo a parole. Il Partito Valore Umano, infatti sebbene la sua prima apparizione nello scacchiere politico nazionale, potrebbe comunque rientrare nella ripartizione dei seggi al proporzionale. Le nostre proposte, prosegue il comunicato, sono raccolti in un manifesto di 11 punti da cui traspare una visione dello Stato e solidale, trasparente ed etica. Per abbattere le povertà proponiamo politiche di sostegno alle famiglie e reddito di dignità. Questi sono solo alcuni dei punti contenuti nel nostro manifesto che invitiamo a consultare con maggiore attenzione sul sito ufficiale partitovaloreumano.it. Rimettiamo al centro del nostro futuro, conclude Iona, il valore umano. Grazie. Grazie.